Vertice tra il sindaco di Nocera Inferiore e il direttore sanitario dell'ospedale Umberto I Maurizio D'Ambrosio. Il primo cittadino ha voluto ribadire la vicinanza dell'amministrazione alla struttura ospedaliera, ricordando anche dei finanziamenti stanziati con una delibera regionale per lavori di adeguamento al nosocomio. Ieri è stata un'occasione per far visita all'ospedale, per far presente che il sindaco è in città e che si occupa dei problemi della città per fare avere un confronto con il direttore sanitario circa le difficoltà, chiaramente in un momento che sono amplificate dal momento estivo, quindi dalle fere anche giuste e legittime dei dirigenti sanitari. Devo dire la verità che in un contesto generale dove vediamo l'ospedale di Sarno che urla a gran voce delle difficoltà addirittura a chiusura di reparti. Altri ospedali, anche stamattina leggevo la stessa Salerno, è in difficoltà. Devo dire la verità che per l'organizzazione dell'ospedale di Nocera e per un lavoro che abbiamo portato avanti già negli anni precedenti, devo dire la verità che l'ospedale di Nocera segue una certa organizzazione e si sta facendo trovare pronto con le mille difficoltà, con una limitazione di qualche reparto che limita i ricoveri, specie nelle ore notturne. Però non voglio con le prudenze del caso, ho visto un'organizzazione che noi spingeremo che venga ancora migliorata, ma soprattutto venga migliorata con l'impiego di ulteriori risorse. Le procedure assunzionali sono state espletate, quindi confidiamo nel completamento nel più breve tempo possibile. Abbiamo avuto anche una notizia accolta in modo molto favorevole, quella del stanziamento da parte dell'ASL, di somme che erano già state stanziate nel piano triennale, ma che hanno visto la delibera di approvazione e di assegnazione all'ospedale di Nocera e Inferiore, compreso Ioneri, sono intorno ai 9 milioni e riguardano opere infrastrutturali importanti, non voglio anticipare nulla perché non sono di competenza di questo ente, però abbiamo cognizione che verranno realizzate delle opere infrastrutturali anche degne di questo nome e soprattutto che potranno ancora del più alzare il livello del nostro ospedale. Questo è un tema insieme a quelli e agli altri di portata generale, come per le infrastrutture e gli altri temi, quelli dell'ambiente e la mobilità che ci occupano quotidianamente, che noi cerchiamo di seguire costantemente. Tra l'altro abbiamo in amministrazione persone, consiglieri comunali che svolgono anche il proprio lavoro professionale all'interno del nosocomio, il dottore Baio che lavora lì in ospedale, abbiamo anche consiglieri tra il personale infermeristico, che sicuramente tra cui Mariano Fasolino, Luigi Pepe, quindi voglio dire abbiamo una presenza costante, quindi conosciamo i problemi e sono certo che proveremo e quantomeno ci impegneremo a seguire le vicende del nostro ospedale. Grazie.